allora ragazzi vi faccio vedere come andavano risolti i problemi con i segmenti la cosa importante che ho visto alcuni di voi non l'hanno fatto sempre il disegno in questa tipologia di problemi non potete evitare di fare il disegno quindi bando alla pigrizia quando si fa si esegue anche con la grafica questo mi raccomando tutte le volte che fate un problema di matematica se è necessario il disegno fatelo non potete memorizzare tutto guardiamo i problemi tutti uno alla volta allora problema numero uno vi viene data una somma e una differenza di segmenti abbiamo detto che c'è praticamente una formula quasi diretta per trovarli no vediamo bene questo è il segmento rosso e questo qui è il segmento blu rappresentano il segmento maggiore e quello minore tra quelli che dobbiamo trovare ok quindi rosso è quello più lungo blu è quello minore quello che sappiamo è che la loro somma è 25 centimetri e la loro differenza è 5 centimetri quindi per loro somma io ho tirato un segmento che sia lungo quanto tutti e due mesi assieme e per differenza questo segmentino verde di 5 centimetri che cosa notiamo se noi mettiamo questo segmentino unito qui dove vedete il cursore ecco che otteniamo un unico lungo segmento che è lungo praticamente come due volte il segmento rosso questo più questo altro non sono che il segmento nero più il segmento verde cioè la somma più la differenza perché questo segmento nero sarebbe dato da un segmento rosso più il segmento blu che è più corto se al segmento blu uniamo questo verde che la differenza con quello rosso è come se avessimo due segmenti rossi di fila dividiamo per due e troviamo la lunghezza del segmento rosso data la lunghezza del segmento rosso basterà toglierci la differenza e troviamo quello blu quindi se noi uniamo i due segmenti quello somma e quella differenza otteniamo un unico otteniamo un unico segmento di 30 centimetri 25 più 5 30 centimetri diviso 2 mi da 15 centimetri segmento rosso ce ne tolgo 5 e ottengo un segmento di 10 centimetri ci siamo prossimo problema questo è più semplice abbiamo due segmenti sappiamo qual è o la loro differenza o la loro somma ma soprattutto sappiamo il rapporto fra i due non è difficile se noi abbiamo i segmenti messi così guardate sappiamo che la differenza 24 ma se questo segmentino blu è lungo quanto un terzo di tutto il segmento rosso guardate bene questo è il segmento rosso completo 24 centimetri a differenza dal segmento blu quindi divido per due la differenza e ottengo uno di questi pezzi del segmento rosso che saranno uguali e al segmento blu e a un terzo di tutto quello rosso quindi 24 lo divido per due perché in tutto ho quattro segmenti questi vengono mascherati questi due li metto in evidenza questi vedete li levo mi restano due segmenti rossi che in realtà sono i due terzi del segmento rosso i due terzi del segmento rosso sono 24 centimetri comodissimo lo divido per due ottengo un terzo del segmento rosso moltiplico per tre ottengo il segmento rosso tengo così com'è ottengo il segmento blu quindi 24 diviso due ottengo 12 centimetri questi 12 centimetri moltiplicati per tre mi danno il segmento rosso il concetto è totalmente sovrapponibile a quello della somma perché se io la somma dei segmenti ho il segmento rosso lungo così e quello blu che è un terzo è come se avessi quattro terzi del segmento rosso e se quattro terzi del segmento rosso sono lunghi 48 mi basterà dividere per 4 per ottenere un quarto che in questo caso vediamo che è identico al nostro segmentino blu questo quindi 48 diviso 4 mi darà di nuovo 12 mentre 36 ovvero 12 per 3 sarà il segmento rosso problema 3 la somma di due segmenti è 145 centimetri poi è sottinteso correggiamo e il secondo supera il primo di 17 centimetri calcoliamo la misura di ciascun segmento abbiamo di nuovo somma e differenza utilizziamo la stessa strategia di prima segmento somma 145 se noi mettessimo un pezzettino verde qui dove indico otteniamo due volte la lunghezza del segmento rosso quindi se noi sommiamo a questo segmento qui quello verde come se lo sommassimo qui otteniamo una lunghezza che è due volte quella del segmento rosso gioco forza possiamo dividere questa misura per due quella del segmento somma e segmento differenza per ottenere la lunghezza di metà del segmento rosso del segmento rosso di metà di questo lungo segmento che è uguale al segmento rosso scusate problema 4 somma e differenza solito concetto segmento rosso segmento blu al segmento rosso io ho sommato un segmento blu ottengo 67,8 centimetri se aggiungessi anche questo pezzettino verde qui otterrei qualcosa che è praticamente identico a due volte il segmento rosso qui perché sarebbe il segmento rosso è uguale al segmento blu più questo pezzettino verde come vediamo qua sotto quindi rosso più blu più verde è uguale a due volte rosso ma naturalmente rosso più blu è lungo tutto questo nero quindi nero più verde mi dà il doppio del segmento rosso divido per due e ottengo la lunghezza il rosso sarà 41,4 centimetri mentre il più corto il blu sarà dato da 41,4 meno i 15 centimetri di differenza 26,4 centimetri questo con i tre segmenti è il più complicato naturalmente è quello che può dare più problemi allora ho la somma dei tre segmenti e so quanto ognuno supera quell'altro come posso regolarmi? in questo modo qui io cosa ho fatto? mi sono basato sul segmento AB perché è quello su cui si basa la misura di tutti gli altri qua abbiamo AB qua abbiamo CD la cui misura è data sulla base di AB è AB più 4 centimetri e qua abbiamo EF che è sempre dato da AB più 16 centimetri e poi abbiamo questo qui lungo che è tutta la somma 59 centimetri ma se a questi 59 centimetri leviamo i 16 e i 4 centimetri quindi se leviamo questo da 4 e ci leviamo questo da 16 a questo qui lungo grigio che so quanto è lungo era 59 ci tolgo questo pezzo qui prendendo in prestito da qua e da qua ecco che mi resta soltanto una lunghezza pari a tre segmenti rossi AB quindi cosa farò? leverò il segmento da 4 e quello da 16 e otterrò 39 centimetri dividendolo per 3 avrò 13 centimetri una volta che so che AB è 13 centimetri ottengo AB 13 centimetri CD 13 più 4 sarà 17 13 più 4 e EF 13 più 16 e sarà 29 centimetri problema 6 anche qua ho la somma di tre segmenti però la faccenda è leggermente diversa in quanto oltre ad avere tre segmenti posso già lavorare solo su due segmenti esattamente come sul primo problema perché il primo e il terzo segmento sono in rapporto tra di loro sconoscendo la somma e la differenza quindi cosa vorrà dire? che somma più differenza la somma più differenza dei segmenti rosso e verde mi darà una lunghezza pari a due volte il segmento rosso è come se avessi aggiunto questo pezzettino qui che è come aggiungerlo qui che è come avere questo quindi una volta che io ho potuto ottenere questa situazione che cosa farò? somma più differenza due volte il segmento rosso la divido per due la somma più differenza è 126 centimetri divido per due ottengo 63 centimetri il terzo è uguale al primo segmento meno 44 centimetri quindi sarà 62 centimetri di questo qui meno 44 e ottengo 19 centimetri i disegni non sono in scala perché naturalmente non posso sapere l'esatta proporzione l'esatta lunghezza dei segmenti prima di calcolarli questo non mi importa mi basta averli mi basta sapere che ci sono delle differenze inizialmente il secondo segmento non è difficile in quanto io ho la somma di tutti e tre e posso sottrarre il rosso e il verde quindi dai 117 posso levare la lunghezza del rosso che avevo trovato che era 63 centimetri e la lunghezza del verde che abbiamo calcolato essere 19 centimetri 117 meno 19 è meno 63 otterrò il blu che sono 35 centimetri inconvenienti delle registrazioni adesso andiamo a vedere due segmenti da 75 centimetri sommati due segmenti la cui somma è 75 centimetri scusate il telefono mi ha distratto due segmenti la cui somma è 75 centimetri sappiamo che uno è quadruppo dell'altro non è difficile prendo questo lo porto qua è come se avessi un lungo segmento diviso in 5 parti quindi mi basterà dividere 75 per 5 e otterrò 15 centimetri che sarà la lunghezza del segmento blu moltiplico per 4 ottengo 60 centimetri e la lunghezza del segmento rosso problema 8 stesso discorso due segmenti uno è il triplo dell'altro e la loro differenza è 48 basta prendere la loro differenza sapere che è i due terzi del segmento maggiore quindi dividerla per 2 e otterrò 24 centimetri ogni segmentino di questi sarà 24 centimetri la metà di questo è da 48 24 sarà anche quindi quello rosso e 24 per 3 sarà questo qui blu 72 centimetri problema 9 un pochino più complicato ho la somma di 3 segmenti il primo supera il terzo di 24 centimetri e il secondo è il quadruplo del terzo cosa faccio? uso il terzo come unità di misura il secondo sarà 4 volte il terzo e affiaccandolo so che anche il primo contiene il terzo in qualche modo ho costruito una piccola unità di misura come avevamo fatto in classe la loro somma totale è 90 so che fino a qui fino a questo punto qui abbiamo una lunghezza che è pari a 6 volte il terzo ci posso levare questi 24 centimetri ai 90 e sapere che questo segmento nero è 6 volte il terzo segmento questi 24 sono a differenza fra il verde e il blu quindi ho tolto i 24 e mi resta questo pezzetto il secondo segmento che è lungo 4 volte il terzo e il terzo questo pezzetto naturalmente era uguale al terzo divido questa lunghezza che posso calcolare perché è 90 meno 24 per 6 ottengo 66 centimetri ogni segmentino è 11 centimetri saprò che il terzo segmento è 11 centimetri questo segmento il secondo sarà 44 centimetri e il primo segmento sarà 11 più 24 e saranno 35 centimetri